E' una nuova ondata di pace, di costruzione di progetti nuovi nei territori sia internazionali che nazionali, perché lo studentato internazionale ritorna nell'Africa, in Medio Oriente, nei Balcani con grandi progetti dove le rondini d'oro li accolgono per costruire e rilanciare l'operazione di pace. Le altre sono nei territori italiani, in tutte le regioni, quest'anno abbiamo un grande alleato, Vodafone Italia, che sul progetto delle rondinelle d'oro, dei ragazzi che tornano nelle quinte liceo in tutte le regioni italiane, saranno sostenuti perché i progetti abbiano più chance di impattare e di cambiare davvero in meglio le loro comunità. Capendo sempre di più che conflitto non è una parola negativa, è una condizione permanente della vita, quindi non si tratta di evitarlo ma di imparare a conoscerlo, gestirlo, orientarlo, trasformarlo e da qui ogni possibile sviluppo umano, sociale, economico e politico potrà venire. La collaborazione in realtà è una collaborazione di lungo corso, a noi piace davvero lavorare su realtà che abbiano un impatto e che siano in linea con i nostri valori aziendali. Qui a Rondine si lavora sui leader del futuro e quindi su un tema importante, ci si lavora anche su tematiche che sono tematiche in questo momento fondamentali, quali l'inclusione e su valori, quali l'inclusione che sono valori in cui la nostra azienda, prima che ancora la fondazione Vodafone crede e quindi ci piace davvero poter costruire insieme e poter investire su realtà che poi hanno un impatto non solo locale ma un impatto molto più ampio e internazionale e nazionale con questo nuovo progetto. I giovani sono sicuramente la chiave per il futuro, l'innovazione è un'altra chiave importante, le buone idee sono una chiave importante, la capacità di ascolto e la capacità di includere nuove idee sono una chiave importante, io credo che siano caratteristiche che nei vostri progetti voi avete sempre, ce l'avete anche in questo caso, non ci sono nazioni o aziende che sono sufficientemente evolute da non aver bisogno di continuare ad investirci. Grazie 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 Grazie